Un atleta che, come ha detto, non sa vedere l'ostacolo come la figlia, ma come inizia la pastiglia. Andiamoci alla notte, nuova vita, molto a cavallo, lavoro, porto avanti una famiglia, molti altri vedono una persona forte. In realtà non è vero. Non faccio lo sport che amo, lo posso fare, perché ho creato le condizioni per poterlo fare. Ci sono dei sogni che ho per un futuro, però allo stato attuale io comunque sono contenta. Mi cambierei con nessuno. Mi chiamo Sara, e quindi devo presentarmi. Mi chiamo Sara Volganti. No. Ti sfiazzo perché ti cambio le domande. Mi chiamo Sara Volganti. 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 Grazie a tutti.